Andiamo, no, non andare fuori, non andare fuori Ragazzi incredibile, forse ci siamo, no, ma che cazzo di rampa è questa? Ciao a tutti ragazzi, qua Dextra e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Con noi gore con la rampa, abbiamo subito la nostra Osiris Che ho deciso di prendere perché era l'auto consigliata Sempre in tantissimi, abbiamo già degli oggetti 3, 2, 1 E partiamo subito, vai Voliamo con le nostre super checkpoint Il checkpoint è già mancato, mi sono infilato qui ragazzi nella bancarella e la frutta Ma il checkpoint è buggato, vediamo se... ok, adesso l'abbiamo preso Via, la gente torna indietro perché l'hanno mancato tutti, muoviamoci Io fortunatamente poi l'ho preso, mamma mia, uno li è volato E andiamo ragazzi, prendiamo il checkpoint, guarda come spingono Ovviamente a inizio gara non si ragiona, succede di tutto Allora, c'è gente dietro, gente davanti Guardate la gente come lagga, come si spinge Tensione, dai, dai che un po' dobbiamo avvicinarci di nuovo Allora, c'è questo qui con la Progen Color, non dico che cosa Sta laggando proprio in maniera assurda Lì era dentro Era dentro la strada prima Non lo so ragazzi, comunque Cerchiamo di muoverci e di allontanarci Da questi giocatori misteriosi Allora, siamo dietro questo qui, andiamo potenza Mamma mia, guardate qui Tensione, questo qui forse voleva spingermi Non lo so, io ho frenato per sicurezza Andiamo, superiamo tutti, attenzione Vai che stiamo recuperando un paio di posizioni Ma le rampe dove sono? Ok, qui inizia tutto forse Andiamo, il checkpoint preso Mamma mia ragazzi, vai, cosa abbiamo? Wall ride Vai, andiamo Andiamo Osiris Andiamo con il wall ride Mamma mia Guardate qui ragazzi, l'auto che scivola Veramente epico Vai Osiris al primo tentativo Ce l'abbiamo, siamo in quarta posizione per il momento Mamma mia, ce l'hanno fatta tutti Vabbè, non era, non era proprio Che cazzo è? No, quello mi ha colpito in volo Rimettiti bene Ok, ci siamo Incredibile ragazzi Quello mi ha toccato La mia auto ha fatto non so Non so quanti giri Ma comunque è veramente molto pericoloso Ma siamo ancora qui Incredibile Allora, secondo giro per noi Rampa veramente molto semplice Però bellissima Perché l'auto scivola Sono quei wall ride un po' nuovi Comunque non so perché Ma oggi laggano veramente tutti Dai, siamo di nuovo qui All'inizio di tutto Vai Checkpoint preso Riseguiamo adesso la guida come prima E cerchiamo di non sbagliare Vai, 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 andiamo, andiamo Vai, perfetto Osiris No, che cazzo è? Perché? Perché la mia auto deve fare questi scherzi? No, ragazzi, è assurdo La mia auto ovviamente deve trollarmi Cioè non so dove cazzo ho sbattuto In qualche parte Di qualche container E sono stato fregato Dai, non fare scherzi Osiris Andiamo giù Vai Cerca di scivolare Perfetto Qui ci siamo ragazzi Andiamo, andiamo Facciamo anche questa parte Prendi il checkpoint Ok Quarta posizione per noi ancora E ormai manca l'ultimo checkpoint E dopo di che il traguardo Ragazzi, gara veramente semplicissima A parte qualche piccolo troll Da parte della mia auto Ma alla fine tutto bene Prendiamo qui l'ultimo checkpoint E andiamo a concludere questa gara In quarta posizione Concludio Boom Quello voleva farmi passare Ma io l'ho spinto nel traguardo Quarta posizione per noi Gara molto bella Adesso andremo a fare un'altra Rieccoci qui Nuovamente pronti Ho perso la progen Perché anche qui era l'auto consigliata Ormai praticamente Nelle gare ragazzi Ci sono sempre le stesse auto consigliate Però alla fine devi prenderle Perché se non le prendi Poi ci rimani totalmente fottuto 3, 2, 1 E andiamo vai Partiamo subito Cerchiamo di non farci bloccare come prima Attenzione Tre giri questa volta per noi Invece di due Guarda questo qui accanto Via Muoviamoci Già spingono Boom Ok andate a farsi fottere Superiamo tutti Attenzione No Quel cazzo di pollo Mi ha fatto girare l'auto Andiamo ragazzi Ripartiamo Ripartiamo Allora davanti a me C'è sempre qualcuno Che lagga Non so Cosa è? C'era un cadavere? Perché? Perché c'era un cadavere? Non lo so Comunque Vola di tutto Pali Veramente gare estreme Ragazzi Guardate questo qui davanti a me Lagga Io non so perché Ma c'è la gente che veramente Lagga In una maniera disumana Non c'è Non c'è altro da dire Prendi qui il checkpoint Muoviamoci Guardate che cazzo è? Quello si è infilato dentro il palazzo Adesso tra poco Compare qui davanti a me La gente È veramente super buggata Andiamo qui Super curva Checkpoint preso Mamma mia che volo Mi dispiace per lui Andiamo Totalmente distrutto Seconda posizione per il momento Attenzione Qui la gente potrebbe Farmi volare Andiamo 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 Vai 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 Potenza Potenza Progen Cerchiamo di andare Attenzione Questo qui accanto a me Non promette bene ragazzi Attenzione Cadono i pali Ovviamente Abbiamo un po' di scia Andiamo Che cazzo faceva Quello destra e sinistra Alla fine l'abbiamo fottuto Allora qui Mi sa che inizia tutto Sì perfetto ragazzi Vai potenza Potenza Andiamo Progen Non tradirmi Che eri l'autoconsigliata Vai qui Perfetto Mamma mia potenza 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 Andiamo No Non andare fuori Non andare fuori Ragazzi incredibile Forse ci siamo No Ma che cazzo di rampa è questa No ragazzi Questa qui non è normale Ricompariamo Cioè cos'è Mezzo wallride Poi una spirale Boh non si capisce nulla Cioè rampa veramente estreme Non sto scherzando Ma cose così Non se ne vedono mai Muoviamoci Mamma mia Qui mi hanno fatto sbandare E andiamo Dai cazzo Se non sbagliavo Eri in prima posizione Però è veramente difficilissima Questa qui Vai ci riproviamo Ci riproviamo Diamo Progen Perfetto Perfetto Non andare fuori Questa volta Vai vai Con calma No merda Non ce l'ho fatta Non ho tenuto l'auto ragazzi Vai 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 Andiamo 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 Perfetto così Potenza Potenza Arriva al checkpoint Ce l'abbiamo Sì Settima posizione per noi Incredibilmente Perfetto Siamo qui Ragazzi Primo giro completato Questo qui Ma che cazzo è quello Era arrivato Non so come Boh Forse la gente si butta adesso Eh perché effettivamente Forse se uno Se uno si butta Dall'altra parte Prima di fare la spirale Forse potrebbe anche arrivarci Però Noi facciamo tutto ovviamente Alla perfezione Secondo giro per noi adesso La mia Progen Vola Ci li siamo Prendiamo quest'altro checkpoint Cerchiamo di rifare Il tutto Vai vai Potenza Mamma mia Stavo quasi per sbandare Andiamo Cerchiamo di superare questo No stiamo dietro di lui Tanto abbiamo Un po' di scia Vai Potenza Vai Progen Non sbagliare Attenzione Mamma mia Quello è volato via Andiamo 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 Cerchiamo di fare qui la spirale Potenza In su Prendi il checkpoint Ok ce l'abbiamo ragazzi Terza posizione Abbiamo veramente recuperato un bel po' Adesso ci manca un altro giro Quindi vabbè La prima posizione è sempre difficile Come al solito Perché i troll sono ovunque Però voglio dire In terza non è male per il momento Eccolo qui Terzo giro per noi Andiamo Più veloci di prima Rieccoci per la terza volta Merda C'è un po' di casino Attenzione C'era uno con Con la zentorno Che per evitare ragazzi Ecco qui Per evitare Alla fine ho sbattuto Dai che ci siamo Dai che ci siamo Vai Progen Non sbagliare Tutto come prima Tutto come prima E lei sbaglia Ma che cazzo è Cerca di finire lì sopra Niente Eravamo in prima posizione ragazzi Non dico che ce l'avrei fatta Ma quel bastardo con la zentorno Mi è sicuramente un po' bloccato Andiamo Qui sorpassi assurdi Vai Vai che possiamo ancora andare Andiamo 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 Segui la guida Vai Progen Vai Progen No ma che cazzo è Non ce la faccio più Niente da fare ragazzi Ormai siamo stati fottuti Sicuramente Dai che ci siamo Dai che ci siamo Dai che ci siamo Vai qui Fai tutto perfettamente Andiamo Piccola spirale Arriva lì Checkpoint preso Siamo in seconda posizione ragazzi Attenzione Rimetti bene l'auto Perfetto La Progen Si è rimessa bene Adesso ci manca praticamente Soltanto il traguardo E nulla Dai Seconda posizione Non male alla fine Ma potevo anche arrivare in prima Sicuramente Perché avevo fatto un ottimo recupero Però Come sempre deve capitare qualcosa Ovviamente Comunque Andiamo ragazzi A concludere questa bellissima gara In seconda posizione Ecco qui La nostra Progen Alla fine È andata veramente bene Molto bella Adesso ne andiamo a fare un'altra Ultima gara Adesso abbiamo L'azzo intorno E dietro di noi ragazzi C'è un fottutissimo Triangolo Illuminati Vediamo un po' Se adesso riusciremo a vederlo Vediamo un po' Eccolo lì ragazzi C'è il triangolo Mamma mia Partiamo subito Il gol All'improvviso Andiamo Andiamo Muoviamoci Allora questa volta l'azzo intorno Tre giri Tutto già buggato Cerchiamo di andare a riprendere il checkpoint Mamma mia Che cazzo è Era comparsa una Bu Checkpoint preso Muoviamoci ragazzi Mamma mia Iniziamo già con i bug Anche quest'altra gara Allora Attenzione Cosa fa Quella lì voleva attraversare Ci sono gare clandestine in corso La gente cerca di fare queste pazzie Allora qui perché la mia auto saltella I pali sono come al solito ovunque Comunque la zentorno Non era l'auto consigliata per questa gara Ma cazzo Esageriamo Dai l'ho presa Vediamo un po' come va Attenzione Forse abbiamo subito qualcosa Sì Quello cos'è un mezzo loop A quanto pare ragazzi C'è un wall ride E poi un mezzo loop Che tra pochissimo Forse faremo Andiamo Andiamo Vai 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 Prendiamo tutti i checkpoint Vai zentorno Vai al massimo della tua potenza Attenzione 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 No guarda qui la bancarella E la frutta che mi bloccano Mamma mia Ok ragazzi Qui facciamo tutto Vai Andiamo Iniziamo subito con le rampe Segui la guida Andiamo vai vai Fai questo Mezzo loop wall ride E' veramente fantastico Qualcuno è esploso Andiamo zentorno Vai zentorno Attenzione il triangolo Siamo passati in mezzo Dov'è il checkpoint Checkpoint dove sei? Si atterra? No è su No ragazzi Il checkpoint è su Eravamo passati dentro il suo tutto triangolo Però purtroppo La zentorno Non ce l'ha fatta Dai riproviamoci Andiamo vai Segui la guida Comunque questa rampa E' pazzesca Perché c'è questo Mezzo loop wall ride Fantastico Andiamo 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 Vai giù adesso Ok vai che ci siamo No cos'è? Eh ragazzi C'era un altro wall ride Vabbè Ovviamente la zentorno Non era l'auto consigliata Quindi avremo anche qualche problema Pure per questo Allora sono qui da vari minuti Ma purtroppo Ragazzi la zentorno No veramente non riesce a fare A fare quell'ultima parte Del wall ride Vai che ce la possiamo fare Vai che ce la possiamo fare Attenzione No ragazzi non ce la fa No niente Io sono qui veramente da 4 minuti Ma l'auto non vuole sapere di fare Quell'ultima parte Del wall ride Veramente Il tutto era consigliato Per l'osiris E la pro genetti 20 Che io ho già preso Quindi non volevo riprendere Quelle auto Però a quanto pare Alla zentorno Non c'è proprio possibilità Vai riproviamoci Vediamo un po' Niente da fare Si pianta lì Ragazzi non so Non so cosa fare Ragazzi io la rifaccio Prendendo questa volta Una fottuta auto consigliata E vedremo un po' Se ci riuscirò Oppure no Siamo di nuovo qui Prendiamo il checkpoint E vediamo un po' adesso Come andrà Con l'osiris Oh merda c'è uno dietro Però Andiamo vai Potenza potenza Segui qui la guida Andiamo osiris Attenzione Ok qui ci siamo ragazzi Per il momento Vai c'è il wall ride adesso Andiamo wall ride Wall ride Vai giù Vai giù Attenzione mi hanno spinto No che cazzo è mamma mia Vabbè quello dietro mi ha spinto Incredibile Comunque ragazzi Penso veramente di farcela adesso Perché Osiris va Va già meglio In molte cose Vai riproviamoci Vediamo un po' Ok ragazzi Finalmente Finalmente Ce l'abbiamo fatta Osiris è riuscito a passare Incredibile Ecco qui Qui diciamo che ce l'ho fatta Veramente molto presto Rispetto La gara di prima Insomma con la zentorno Siamo già il secondo giro Veramente ottimo No ragazzi Effettivamente era Era l'auto che non andava Perché cazzo Con la zentorno Ce l'avevo provato Veramente tantissime volte E non ci riuscivo Qui Qualcuno ha già concluso Veramente assurdo Comunque dai Ma che cazzo è Mamma mia Incroce assurdo Andiamo Osiris Andiamo Osiris C'era uno bloccato lì Ma ce l'abbiamo fatta Ragazzi Siamo passati Mamma mia C'era uno pure bloccato Nel triangolo Non so che cazzo Comunque concludiamo Sesta posizione per noi Ragazzi abbiamo concluso Questa gara Grazie allo Osiris Perché altrimenti Non ce l'avevi fatta Sinceramente Con la zentorno Prima era impossibile Comunque dai Una bella gara Siamo passati in mezzo Al triangolo Degli illuminati E la cosa che avevo detto Nella seconda gara Se non sbaglio Alla fine risulta vera Ragazzi Se non si prendono Le auto consigliate Uno rimane Veramente Veramente fottuto E c'è poco da fare Ragazzi che dire Spero che il video vi sia piaciuto Abbiamo giocato tre gare Molto belle L'ultima Abbastanza troll Mi ha dato un paio di problemi Però siamo riusciti a farcela Comunque sia Delle gare Sicuramente Molto belle Io spero che il video vi sia piaciuto Quei da extra Lasciate un mi piace E ci vediamo al prossimo video